Buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale se è la prima volta che passate di qua E di nuovo buongiorno, prima di tutto voglio scusarmi perché sono vestita e fettinata e anche diciamo così la location è quella degli ultimi due video è quella degli ultimi due video però oggi ho tempo appunto di girare di là c'è mio figlio che dorme quindi mi sono messa qua in quest'angolino tranquilla tranquilla per girare questi video oggi è martedì e doveva essere il video dedicato alle erbe indiane sarà comunque un video dedicato alle erbe indiane anche se oggi non parleremo di un erbe indiane specifico ma vorrei parlare un pochino in generale di un erbe indiane quelle che uso io, quelle che ho usato io sono quasi giunte al termine infatti restano altre due o tre erbette che ho sperimentato, che ho utilizzato qualcuna la utilizzo ancora e la baeta l'erba in questione è quella che ho utilizzato ancora e sicuramente il prossimo video dedicato alle erbe indiane sarà appunto dedicato alla baeta poi parlerò di altre erbe che ho utilizzato in passato e che attualmente come è successo per il Tursi non sto più utilizzando perché comunque non posso utilizzare decine e decine di erbe indiane facciamo una cernita dopo averle sperimentate facciamo una selezione di quelle che ci sono piaciute di più di quelle che fanno più effetto positivo sui nostri capelli con quelle lì andiamo avanti perché appunto ci sono tantissime erbe indiane se vorremmo utilizzarle tutte penso sarebbe anche quasi impossibile utilizzarle tutte almeno che non fessimo un mix con 50 erbe diverse quindi penso che sia la selezione naturale scegliere quale erba indiana ci piace di più e selezionarle e poi utilizzare sempre quelle però come vi ho detto le erbe indiane sono tantissime quindi quando avrò finito di mostrarvi quelle che ancora ho in casa come vi ho detto penso che quelle che ancora ho in casa saranno una massimo due ancora che non vi ho mostrato quelle che utilizzo ancora poi vi parlerò di quelle che ho utilizzato come appunto è successo per i flussi di cui attualmente non avevo la scatola perché non lo sto utilizzando più avendo io selezionato altre erbe con cui mi sono trovata meglio e poi quando avremo finito di parlare di tutte le erbe indiane che ho utilizzato io passeremo a quelle erbe indiane di cui ho sentito parlare ma che non ho per un motivo o per un altro non ho utilizzato o non ho ancora utilizzato quindi la nostra rubrica dedicata alle erbe indiane andrà avanti ancora per un pochino di tempo non vedrete più le scatole perché appunto sono erbe che ho utilizzato in passato quindi vi parlo in base alla mia esperienza anche non avendo più il prodotto fisico anche non utilizzando più quella specifica erbetta e poi vi parlerò sempre in base all'esperienza sempre in base a ricerche specifiche anche di altre erbe indiane che non ho ancora utilizzato e che magari utilizzerò in futuro per il momento appunto volevo parlarvi soprattutto della selezione come vi ho detto ci sono tantissime erbe indiane decine e decine di erbe indiane alcune molto simili fra di loro altre con caratteristiche, con qualità diverse quindi noi che cosa possiamo fare? se ci abbiamo voglia, se ci abbiamo tempo soprattutto se ci abbiamo anche una piccola possibilità economica di provarle tutte benvenga quindi andiamo a selezionare quale erba ci serve vogliamo far crescere più velocemente i capelli andiamo a selezionare quale sono le erbe che hanno sempre fra virgolette perché non è una cosa sicura al 100% che hanno questa qualità di far crescere i capelli più velocemente quindi andremo a selezionare la maca andremo a selezionare l'amla andremo a selezionare il brame fra queste erbe le utilizzeremo e poi vedremo quale è più funzionante per il nostro tipo di capelli e sceglieremo quello abbiamo bisogno di un'erba lavante perché magari vogliamo fare dei lavaggi alternativi con le erbe indiane andiamo anche qui a scegliere qui la scelta è un pochino più limitata perché le erbe lavanti quelle più specifiche sono la rita e la shikakai quindi abbiamo due erbe tra cui scegliere proviamole tutte e due io ad esempio con la rita mi sono trovata male mi sono trovata male perché mi lasciava i capelli un po' secchi un po' pesanti mentre la shikakai è stato amore a prima vista i capelli venivano puliti ed era molto più delicata ai miei capelli mi piaceva di più la shikakai quindi ho archiviato la rita io ho continuato solamente ad utilizzare shikakai quindi già sul fatto delle erbette lavanti siamo un pochino più avvantaggiati perché avendo due specifiche fra le quali scegliere possiamo benissimamente provarle entrambe mi raccomando non proviamole tutte e due nello stesso periodo ma facciamo un mese di prova con la rita e un mese di prova con la shikakai se ne abbiamo la voglia se ne abbiamo il tempo appuntiamo tutte le varie cose che notiamo quindi appuntiamoci come sono venuti i capelli con la rita se sono venuti morbidi se sono venuti secchi quanto tempo sono durati puliti cosa abbiamo non tutti i particolari che abbiamo notato utilizzando stessa cosa facciamo con l'altra erba questa cosa di prendere appunti su come si comporta un'erbetta specifica con i nostri capelli può ritornare utile appunto per selezionare per selezionare quelle che vanno più d'accordo che piacciono di più e sono più funzionali per il nostro tipo di capelli e quindi la parola d'ordine è soprattutto sperimentare vogliamo abbiamo una cute problematica magari abbiamo una cute grassa una cute secca anche lì quasi tutte le erbe indiane sono sebo regolatrici anche qua facciamo una lista di tutte le erbe sebo regolatrici vediamo qualche recensione cerchiamo più informazioni possibili e poi ne selezioniamo ne selezioniamo due, tre, ma anche quattro perché no? facciamo anche qua un test utilizziamole in vari modi come impacco a solo come impacco mixato con altre erbe aggiunte a un impacco lavante e andiamo a vedere gli effetti appuntiamoci gli effetti che notiamo sui nostri capelli e poi selezioniamo le erbe perché appunto secondo me fare una lista una selezione fra tutte le erbe indiane è la cosa migliore che come vi ho detto ce ne sono tantissime di erbe indiane penso che sia impossibile utilizzarle tutte ebbè più che impossibile è un pochino esagerato utilizzarle tutte che andiamo a fare un mix possiamo fare un mix anche con dieci erbe diverse ci sono dei mix già pronti ci sono alcuni mix di enne ci sono alcuni mix di erbe come l'ennara della ash si chiama ennara non mi ricordo bene se si chiama ennara o in un altro modo che sono dei mix con varie erbe ci sono anche più di dieci erbe all'interno appunto con tutte qualità proprietà benefiche per la nostra cute per le nostre radici e per i fusti dei capelli però secondo me fare un mix con tantissime erbe è un pochino esagerato quindi già quando andiamo a scegliere un'erba lavante un'erba condizionante un'erba fortificante una seboregolatore già un mix fatto con 5-7 erbe secondo me è proprio un mix adatto un bel mix di erbe personalizzato perché appunto poi non possiamo ogni volta che finiscono le erbe andare a spendere un patrimonio perché dobbiamo ricomprare le nostre 50 erbe in anni diverse appunto perché come vi ho detto molte di loro hanno proprietà simili quindi magari se prendiamo l'amola è inutile prendere la cassia se prendiamo il bramì è inutile prendere il tussio vi sto facendo degli esempi quindi scegliamo quelle che hanno più affinità e che vanno più d'accordo con i nostri capelli quelle erbe che lasciano i nostri capelli più puliti per più giorni che li lasciano più morbidi più forti più in salute andremo ad utilizzare quell'erba perché non è detto che magari il mio mix di erbe io adesso al momento le erbe che utilizzo di più quelle lì che vanno più d'accordo con i miei capelli sono appunto la shikakai l'amla la maca e ogni tanto c'è un pochino di polvere di ubisco però appunto le tre erbe più funzionali le tre erbe che sono quelle che mi servono di più sono appunto la shikakai come base lavante l'amla fortificante e condizionante e la maca che oltre ad essere ottima per prevenire e contrastare la caduta dei capelli è anche ottima per dare una spinta in più alla crescita dei capelli quindi per me queste tre erbette sono quelle lì indispensabili poi che di tanto in tanto compro qualche altra erbetta e la unisco a questo mix di tre erbe è solamente un di più che vado a dare ai miei impatti solamente una coppola in più che vado a fare i miei capelli quindi secondo me è inutile stare a comprare 50 erbe diverse facciamo una selezione scegliamo fra quelle lavanti quelle condizionanti quelle fortificanti quelle anticadute quelle sego regolatrici e scegliamo le nostre erbe da un minimo di tre a un massimo secondo me da non superare sono sette erbe diverse in questo modo non sarà troppo dispendioso economicamente e avremo un ottimo mix di erbe indiane scegliamo sempre quelle che sono le preferite dei nostri capelli e secondo me non ce ne pentiremo e niente questo video di oggi dedicato alle erbe indiane un pochino diverso dal solito finisce qua io vi mando un grande bacio e vi do appuntamento al prossimo video ciao